Ciao amici, bentornati sul canale giornali del popolo italiano. Nel 2023 su Sky uscirà, in Italia e negli altri paesi in cui il network è presente, una serie tv dal titolo Unwanted, che è liberamente tratta da Bilal, il libro scritto da Fabrizio Gatti, noto giornalista di inchiesta nonché direttore editoriale per gli approfondimenti della nostra testata. In Bilal Fabrizio ha raccontato l'incredibile e tremendo viaggio fatto sotto copertura lungo le rotte del Sahara per testimoniare le condizioni dei migranti e i crimini commessi dai trafficanti di esseri umani, e di questo tema parlerà anche la serie Sky Original, di cui di seguito riportiamo tutte le informazioni e il primo teaser trailer. Quando esce Unwanted la serie, composta da otto episodi, non ha ancora una data di uscita ufficiale, Sky si limita a dire che uscirà nel 2023. Aggiorneremo il dato non appena ci saranno comunicazioni da parte di Sky. Il cast di Unwanted alla regia Oliver Earsbygel, regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta Agli ultimi giorni di Hitler, Diana con Naomi Watts e il film vincitore del Sundance Film Festival L'Ombra della vendetta Five Minutes of Heaven. NBC Universal Global Distribution è il distributore internazionale della serie per conto di Sky Studios. Numerosissimo e multiculturale il grande cast della serie, Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozzela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempe, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdi, Samuel Calambei, Amadou M. Bo, Edward A. Peagey, Rishmi N. Kouka, Onini e Odocoro, Massimo De Lorenzo e Scott Williams. Creata da Stefano Bises, Unwanted è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La serie è prodotta per Pantaleonda Dan Mag, Marco Beckman, Patrick Zorer, Stephanie Skepler Kohler e dal produttore Sascha Roseman che per primo ha avuto l'idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti, per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Avib, Daniel Campos Favoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartman e Sonia Rovai. Di cosa parla la serie ispirata a Villa La Nuontid racconta cosa accade quando una nave da crociera, la orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell'equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave. Di seguito la sinossi diffusa da Sky, la orizzonte è una gigantesca nave da crociera. 5.000 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, 15 ristoranti, un teatro, night club, negozi, piscine, una sontuosa spa. Una città sull'acqua, che naviga nel Mediterraneo al servizio dello svago dei suoi ospiti europei, che per sette giorni non devono far altro che mangiare, bere e divertirsi. Ma la vita vera, che avrebbe dovuto restare a terra, irrompe sulla nave durante la prima notte in mare aperto, dal mare vengono infatti salvati 28 migranti africani sopravvissuti al naufragio dell'imbarcazione sulla quale cercavano di raggiungere l'Italia, mentre più di cento di loro non ce l'hanno fatta. Per quelle persone in fuga da fame, guerre, schiavitù e persecuzioni l'orizzonte rappresenta la salvezza e il primo, incredibile, passo nel mondo che hanno sognato. Per i passeggeri, l'incontro con i migranti, proprio all'inizio di una vacanza spensierata, è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. Perché la scoperta da parte dei migranti che la nave è diretta in Nord Africa, da dove fuggono, sconvolge la crociera e trasforma l'orizzonte nel ground zero della crisi mondiale delle migrazioni, della tratta di esseri umani e del mondo occidentale che fa di tutto per tenere fuori i clandestini. Pregiudizi e preconcetti intrappolano la mente di passeggeri, rifugiati ed equipaggio, esattamente come i confini che dividono le nazioni del mondo. Qui, a bordo dell'orizzonte, l'umanità e la crudeltà, la tolleranza e il razzismo, la speranza e il dolore, la vita e, infine, la morte, arriveranno a un inevitabile scontro. Il teaser trailer di Unwanted, questo il cosiddetto mood teaser diffuso da Sky per presentare la serie ispirata al libro del nostro direttore editoriale per gli approfondimenti. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare Adblock per riprodurre il video. Play replay play replay pausa disattiva audio disattiva audio disattiva audio attiva audio indietro di 10 secondi avanti di 10 secondi spot attiva schermo intero disattiva schermo intero skippi il video non può essere riprodotto. Riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato JavaScript. Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato JavaScript. Devi attivare JavaScript per riprodurre il video. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.